Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Chaos Guys Allora, in questo episodio faremo una cosa molto molto bella Allora, come avete potuto notare, nello scorso episodio, non ce ne siamo accorti Ci ha droppato, oltre a un cuore, 5 fluid export, 5 fluid import e un ME64K fluid storage Quindi ce l'ha già dato lui, in teoria E ce ne ha dati due, visto che siamo due nel server Quindi, meglio per noi Allora, in questo episodio crafteremo un'altra cosa Che si chiama, scrivi con me ME fluid E dobbiamo fare Fluid terminal Ci serve Oh signore Oh signore Fluid terminal Allora, io faccio l'access terminal No, l'access di nuovo Io faccio l'access Tu fai quello di sopra, io faccio l'access Io faccio il tank Tu fai il... Il tank e il converted E' un tank Ma... E' me... E' me... E' me è certos... Si, tank Però stai attendo che non... Quartz glass E' me è cable Allora, l'ME cable la vera cosa non sbaglio Sbam Infatti non ce li ho Un conversion matrix Scusa un attimo L'ME cable... Ehm... Così Io... No, come si fa in i quartz glass? Ehm... Quattro certo squartz e quattro... Non mi ricordo Quattro certo squartz? Si, ma ti sei preso l'ME terminal E cable Si, ma ti sei preso il terminal? No, io ho preso solo il cable No, ti sei preso il terminal Ah, comunque I reactor casing metti nella cesta dei macchinari Ehm... Come... 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 Con... 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 Quartz glass di mettere quattro... A TNT più o meno Allora, al posto della sub di mettere il vetro Al posto della propria da sparare Certo squartz dust DUST? Si Che non abbiamo Che abbiamo Abbiamo 3... 316 Certo squartz... Ah no, l'abbiamo, l'abbiamo L'abbiamo, l'abbiamo Allora Vieni l'ME, vieni l'ME, vieni l'ME Vieni l'ME, vieni l'ME Alessà, si rinvita l'ME Nooo Vabbè, non va niente Allora, vieni qua un attimo nell'ME che te l'ho già imbostato Alessà Oh, questo è tutto scempolo E' abbostato già tutto Allora Ma dove stai zitto? Ehm Ma ti sei preso allo... Oh signore mio, tutto pieno l'ME Che? Vieni, vieni Allora Ehm Certo squartz Quattro Queer E non l'ME cable Ehm 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 Ecco fatto C'è l'hai tu? L'access terminal non ce l'ho, non ce l'ho io L'hai preso tu L'on ce l'ho io L'hai preso tu Che ne c'ho far l'access terminal giù? Aspè, fermo! Ehm Madonna! Fermo Butta sti cazzo di rufa! Devo fare l'access terminal, non attimo L'angola cosa fa? Ehm 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 Fermo! No! Fatto Fatto Perché non va? Perché non va? Ah è pieno! E te lo dico che è pieno? Non mi sento Questo sotto Questo sopra No! Non gioco lì però mo Che cacchino E che cacciamo? Ma che ca... Ma che sono sti cosi? Perché li vanno in me Li vanno a mettere così? Non ho capito L'iron Che togliamo? Ehm Ehm Un Mega Un M Sì, un M Devi fare... Devi fare il VEN di M Che quella è la quest che ti chiede Ehm ME Fluid Terminal Perfetto Adesso Piazziamo L'ME Fluid Terminal Esattamente Allora Bucchiamo qua Aia Buco io, buco io So caduto Già bucato Mi serve Un cavo ME ME Cable Eccolo qua Per forza La metà che devo prendere Allora Il Fluid Storage Facciamo cosi Sbem E Sbem Eccolo qua ME Fluid Terminal Non ancora Perchè mancano i dischi Lo so Ma è vuoto Dobbiamo mettere i dischi Per i cosi E vedi pieno Quasi pieno Allora Ehm Vieni giù All'M Drive Hai capito dove? No Non è ci capito M Qua qua Hai visto che ti hanno dato il 64 fluid? Fatte Ah no Il 64 fluid Si Oh Apri l'M Drive Mettelo qua A fianco Ok E adesso No Adesso Abbiamo lo spazio anche per i liquidi Solo per i liquidi? Solo per i liquidi Ah che palle Quindi Adesso Volendo Questa ME Cerverà per Facilitarci Ehm Lo smistamento di tutti questi liquidi Nelle quest che faremo Ehm Che possiamo fare più? Che possiamo fare più? Il 64 No no il 64 Giusto per non chiudere così No dobbiamo fare il 16M Non hai capito? La quest ci chiede il 16M E poi ce ne da Ce ne da pure un altro gratis 16M Si Vai a Ford 16M 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 esatto 16M 16M ME 16M Però Rendetevi conto che qualcosa la faremo off camera Perché se no Ci mettiamo troppo tempo Vedete che qualcosa la faremo 16K 16K ME 16M Ecco Storage Però hanno foglie Eh 3Diamanti Flux dust Quartz dust Guarda quello in mezzo Guarda guarda Sì Sì Guarda giga Sì Mega Sì Kilo Sì Dove sono Madonna Dove sono Allora facciamo due calcoli Aspetta Facciamo due calcoli Ci vediamo dopo Allora Siamo fatti qualche condicino Allora Le cose non tornano Perché davvero servono troppi troppi materiali Pensavamo che ce l'avevamo Ma non è così Allora per non ghiungudere Per non ghiungudere Per non ghiungudere Per non concludere l'episodio Così Abbiamo deciso Di fare Una nuova cosa Che ci serviranno per il prossimo episodio Allora Che sarebbe Il server Ne dobbiamo fare due E ce ne da otto Quindi Alessia due machine Mi dici quanti machine frame servono? Due Uno E due Basta Basta Poi servono i brick Ne faccio altri giovane sei sicuro? No no due ne servono Due machine frame soli? Sì sì Servono i brick I brick I brick Eh vabbè Non mi dire che non abbiamo clay Ma non ci credo manca a morire Noi non abbiamo clay Ma che stai scherzando Veramente Ma noi siamo senza corrente Noi siamo senza corrente Noi siamo senza corrente Allora Allora Detro Vetro 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 203 Neumatic Ma non c'è corrente Machine frame Giù ma mancano solo i brick Che era plastic shit Plastic shit, plastic shit Plastic shit Ma si è vero Allora Ehm Sto cogeando Fatto pure il plastic shit Manga proprio poco Ne voglio tre Di che cosa? 3 plastic shit Te ne do 4 O i brick Eccole qua Non era così Si Mi manca un altro brick Ce l'hai Ce l'hai Si ma noi ne dobbiamo fare 2 C'è 8 Un altro me ne manca Ce l'hai Altro brick Eccolo qua Beh è un pizzolo E lo buttate Se sta lagando in servo Che vuoi? Ok 8 Perfetto 8 server E ci siamo 8 server Vediamo se ci riusciamo A craftare 2 tesseract 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 Oh signore No non mi riesci che hanno cangiato i craft through tesseract Ma perché veramente Tess Io ancora nagio davvero Tesseract No Trem Alla sa Alendarium No 3 tin Vabbè sempre qui si è come un garden and glass Come fa Alendarium Sarebbe uno tin 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 polverizzata Dobbiamo usare la nostra vecchia induction No no Ma lo faremo nel prossimo No Lo faremo adesso Lo faremo adesso Ma che cosa? Ma che stai dicendo? Ma in che senso come lo fare? Lo sto facendo Qua sta facendo Dobbiamo fare l'induction smelter Abbiamo Ah due Ce l'abbiamo Così Così E non va Ah no Serve L'enter Come si chiama? L'enter pearl Servono Ce l'abbiamo l'enter pearl L'enter pearl L'enter pearl C'era L'enter C'è capito come funziona La nostra chat L'enter V per empower No 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 Non fare il V Non fare il V Lo sa E' caduto un V per le vicinanze Si è caduto su una cosa di legno Sai che succede no? Premi un'altra volta V Fala tornare normale Che figata E scusa Se tu ha max V Non lo premere E' più forte Non capisco Si Madone Allora serve un secchio Perfetto Si 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 sto facendo Sbem E il secchio si riempie Adesso prendiamo il secchio Mi porti Nella cesta di macchinari Alessandro Nella cesta di macchinari Ci sono Delle cose Pyroteum Bravo Uno stack No no Qualcosa di Mezzo Di più Mezzo Mezzo stack Si E pure qualche underpearl Aspetta che ti dico No vabbè lascia stare No si 5 5 underpearl 5 underpearl 5 underpearl Dove sono i macchinari Allora Tequist E tequist Ok Pyroteum E va Qua mettiamo l'enderpearl E va Ho detto E va Perfetto Mettiamo un secchio E si riempie Allora Secchio Shiny E 4 E 3 Volevo dire Andai un blend Alessandro Aiuto Mi viene l'ME Dobbiamo fare due tesseract Io vorrei vedere Dove cade il fulg No Devi stare fermo Non devi cadere Non devi vedere niente Dove cado Ma sta allontano Il fulg Non sta allontano Non sta allontano Fidati Dobbiamo fare Così Così E così Le hard Oh sto morendo di fame L'hardened glass Che è qui Allora 1 2 1 2 E non è così Perché non va Forse al contrario Ehm E infatti E al contrario Così E Così Allora Ne dobbiamo fare due Uno E due Ah non sono Ah si sono staccabile Ok Adesso E li andiamo a riempire Di Liquido Ender Di liquido Oh Ho fatto 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 Prendi Qualche altro Ender pair Uno ne abbiamo Come uno ne abbiamo Solo Sì Aia E prendila Portala giù Mettila nel magma crucible Voglio capire Sto coso Se ce lo posso Mettila Nel magma crucible Sì Ah Peccato L'hai messo Sì Ho fatto Eh Si sta riempiendo Uno Adesso ci servono Altri mille Emebi Ah Eppure giorno Ok Aspettiamo che arriva la notte Vediamo se Passa qualche enderman Togliamo qualche torch Vediamo se Riusciamo a trovare qualche enderman Per trovare l'ender pair Ok Abbiamo Ammazzato qualche Enderman Ci ha dato qualche ender pair Siamo arrivati più o meno A uno stack Quasi giusto Più o meno Sì Uno stack giusto proprio Allora Magma crucible Ok Uno ce l'ha già rinvito E ci siamo 75 No Mille Basta 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 Ok Allora Adesso Prendi il tesseract Che si riembi nel fluid traspuser Ok Tesseract Allora Qua vedevo Perché vedete Ecco perché non me lo faceva fare prima Perché sono due tipi di Si è bloccata la neina Sono due tipi di liquidi Resonant ender E liquify ender Ecco perché non andavo Provo a scrivere enderman Non va Allora Scriviamo Come si chiama? Tesseract Tantosaggio Purtiamo Nelle me Ok Copper Eccolo No Non è copper So cosa Che è? Silver Bronzo Bronzo Il 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 bronzo Si fa con Copper E tin E ci esce il bronzo Vediamo se È ancora come una volta Copper E tin Ma mi sa che l'hanno cambiata Tre copper Una tin Si Ancora così Perfetto Un due Tre E facciamo 12 1 2 3 4 Facciamo Un Tesseract 1 2 3 4 2 Tesseract Perfetto Abbiamo tutto L'occorrente Per il prossimo episodio Quindi Nel prossimo episodio Faremo un'altra specie Di imbiando Per procurarci Il nostro Primo liquido Che sarebbe Uno di questi Quindi Per questo episodio È tutto Noi ci vediamo Nel prossimo Noi ci vediamo